Era nell'aria, ore ufficiale, Vittorio Esposito non giocherà nel campo basso, la conferma arriva dall'entourage del funambolo di San Martino in Penzilis, eccessiva la distanza tra l'offerta del club e le richieste del calciatore che giustamente pretendeva un trattamento da top player visto che in campo ha fatto e farà la differenza a prescindere dalla categoria complicata. Anche la trattativa con Pietro Cogliati e così il lupo potrebbe ritrovarsi a cercare sul mercato due attaccanti di spessore, due pezzi da 90, ci sta lavorando il DS Stefano De Angelis, intanto la rosa prende forma, sono 13 calciatori attualmente contrattualizzati, giovedì la data probabile del raduno, poi l'inizio della preparazione precampionato. A disposizione di Cudini ci sono i portieri Zamarion, nuovo acquisto, e Racichini, confermato i difensori Menna, Dalmazzi, Vanzan, Fabriani, Martino, tutti confermati, in mediana Candellori e Ladu, che conoscete benissimo, in attacco i nuovi acquisti Liguori e Di Francesco e i confermati Vitali e Di Biase in attesa dei fuochi d'artificio. Grazie a tutti.